Sì, però è anche bello da respirare le varie a casa, tutt'ora. Sai, tu apri la finestra del soggiorno, io apro la finestra del bagno. Tra due settimane che sono chiusa nel cesso, basta! Grazie a tutti! Amore, andiamo a metterle le frecce! Ma che mi ditevi stop? Facciamo fila! Ma lo so, questo becce è nato! Sì, non ci devo andare a prendere i lavori i denti! Ma come faccio? Scusate se non è vicino, sono passato dal buzzer perché c'era anche se... Non ci devo andare a prendere i lavori i denti! Non ci devo andare a prendere i lavori i lavori i lavori... Oh! 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 Grazie a tutti.